Una cabina di energia univoca per andare avanti e adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio provinciale davanti all'emergenza coronavirus. È stata una riunione operativa e vivace quella che ha visto al tavolo del prefetto russo, tra gli altri i sindaci di Minori, Agropoli, Sapri, Nocera Inferiori, Oliveto Citra, Cava, Salerno, anche con l'assessore Eva Vosta, l'assessore alla protezione civile di Eboli, Anna Rosa Sessa per Pagani, Sarno, Scafati, Praiano, il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Presenti anche i vertici delle forze dell'ordine e i rappresentanti di alcune strutture sanitarie. L'aspetto che è stato chiarito nel corso dell'incontro è che sono le asla a dare l'input ai sindaci per le ordinanze e i provvedimenti da adottare davanti a casi di possibile contagio, tra le decisioni comunicate e quelle di installare delle tendi all'esterno dei presidi sanitari in modo da avere dei triage separati in casa di allerta per l'arrivo di pazienti sospetti. Lunedì tutti i sindaci si ritroveranno in provincia, mentre anche domani in prefettura c'è una nuova riunione operativa, questa volta con dirigenti uffici giudiziari per fare il punto sui comportamenti da adottare negli uffici pubblici. abbiamo soprattutto definito i comportamenti a livello generale, confermando che, quindi proseguendo in quella linea di unificazione dei comportamenti da parte di tutti i sindaci, praticamente abbiamo confermato che le ordinanze dei sindaci saranno emesse in relazione a quelle che sono le indicazioni delle componenti tecniche delle asla, mano a mano che si dovessero sviluppare le necessità. Abbiamo poi ragionato in merito a tante situazioni, in merito anche a tutti gli ultimi provvedimenti anche di sospensione delle attività didattiche delle scuole, sono stati definiti molti passaggi insieme all'asla, soprattutto di confronto molto franco ma estremamente propositivo tra i sindaci e l'asla, abbiamo deciso in modo tale che ci sia una forma di confronto generalizzato di indire per lunedì mattina in una sala della provincia un incontro con tutti i sindaci della provincia per cui a quel punto ci confronteremo a 360 gradi ma attraverso la distribuzione di mail tante domande saranno già poste preventivamente all'asla in modo che lunedì si possono dare già delle risposte rispetto a tutta una serie di dubbi che comunque i sindaci hanno palesato perché sono il terminale dei cittadini e quindi chiaramente sono sottoposti a tutta una serie di cose. Tutto ciò che afferisce la regolamentazione di ciò che sta accadendo in Campania è contenuto nei provvedimenti che sono stati firmati dal Presidente De Luca e che sono frutto appunto del lavoro del tavolo regionale che è in costante contatto con il tavolo nazionale. Questo ieri ci è stato detto in maniera molto chiara e si sta dando esecuzione a questo. Questi incontri in Prefettura che rientrano nell'ambito del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, noi vogliamo sempre mantenere questo quadro generale proprio della Prefettura che non interferisce nelle vicende di tipo igienico-sanitario dove c'è assoluta vicinanza e lavoro insieme con l'ASL che comunque deve dare tutte quante le risposte del caso. Praticamente appunto noi lo manteniamo così, questo tavolo proseguirà con forme evidentemente più ridotte di rappresentanza dei sindaci perché non possiamo ogni volta fare, però lunedì faremo un passaggio che riteniamo necessario a questo punto di incontrarli tutti. Ripeto, il principale interlocutore è sicuramente il settore igienico-sanitario, quindi il Dipartimento soprattutto dell'ASL di Igiene Pubblica che sta curando tutto quanto, ma l'ASL nella sua interezza, così come l'azienda ospedaliere, si è parlato anche per esempio della installazione delle tende pre-triage davanti agli ospedali, anche su questo si sta andando avanti. Insomma si stanno ponendo in essere tutte quelle necessarie, praticamente accorgimenti, per fronteggiare nel modo più efficace un possibile diffondersi del coronavirus. Si sta lavorando insieme, ripeto, con tanti dubbi, ma è frutto anche di grande vivacità, di grandi impegni dalla parte dei sindaci, quindi si devono mano a mano dipanare tutti i dubbi per dare sempre di più certezza. Il quadro si sta definendo sempre di più e sempre di più, come vi dicevo all'inizio e voglio chiudere in questo modo stiamo attuando comportamenti analoghi simili in tutti quanti i comuni, in modo che i cittadini sappiano esattamente qual è la realtà.